A sorpresa viene fuori un test zeppo di difficoltà per il Foggia, che deve sudare e non poco per piegare le resistenze del Manfredonia, sparring partner nella quinta amichevole della squadra di Boscaglia, un Manfredonia che conferma nel test di essere candidata ad un ruolo dei protagonista nel prossimo campionato di eccellenza. Per il Foggia invece pesano i carichi di lavoro e qualche incertezza di troppo da correggere. A fine gara il club del presidente canonico ha intanto ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista Davide Peterman, matrimonio prolungato fino al 2024. La gara si è aperta subito all'insegna di un euro-goal, dopo meno di tre minuti Trigiani raccoglie un cross dalla destra e in sforbiciata batte dal masso. Per il sorprendente vantaggio dei Sipontini, che lascia intuire quanto il pomeriggio del Foggia sarà complicato. Foggia che però pareggia i conti al ventesimo, peraltro viene steso in area tra le proteste dei Manfredoniani per l'arbitro e calcio di rigore dal dischetto Peterman con freddezza. Fa 1-1. Al ventisettesimo il Foggia la ribalta, peschetola approfitta di una dormita della retroguardia di Decandia e realizza il gol del 2-1. Ma il festival del gol non è affatto esaurito. Al trentatresimo il Manfredone riporta la sfida in parità, calcio di punizione sul punto di battuta va Fiorentino, che con una conclusione non irresistibile batte ancora dal masso e realizza il 2-2. Un attimo prima dell'intervallo però il Foggia si riporta avanti con la zampata sottoporta di Nicolao, che già col Sansevero aveva realizzato una doppietta. Nella ripresa, la solita girandola di cambi da una parte e dall'altra, e al minuto 67 il subentrato a Schick realizza il gol del 3-3. Il gol del successo il Foggia lo realizza nelle ultimissime battute. All'ottantottesimo Tonin salta il portiere e deposita in rete per il definitivo 4-3, prima che l'arbitro decreti la fine delle ostilità.